come era la festa vincenzo sembra tu stia andando verso l'ingresso sento bene appaio come cazzo hai fatto lascia che mi scusi non ci ci può so che la tua macchina preferita se oggi non ti ho ucciso è stato solo per dimostrare un'ultima volta il mio rispetto verso il capo lascio l'italia per non te lo naci mai più non cercarmi se provi la prossima volta anche tu esploderai con la tua e Paolo sai che non te lo meriti non ti ho ucciso Grazie a tutti.